Si è dichiarato estraneo ai fatti Emilio Massacese, 58 anni, indagato per l'omicidio di Nicola Bucco, l'operaio 53enne ucciso con tre coltellate, di cui una mortale alla gola che gli ha reciso la carotide, lo scorso 14 novembre nel suo appartamento di Via Leopardi a Pescara. Fu proprio lui a trovare quel pomeriggio Bucco in un lago di sangue. La porta dell'appartamento era semisocchiusa e c'era una pentola su un fornello ancora acceso. Massacese, la cui iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere agli investigatori di procedere con accertamenti irripetibili, è stato ascoltato questa mattina dal PM Gennaro Varone, titolare dell'inchiesta. Al termine dell'interrogatorio l'avvocato difensore ha riferito che il suo assistito ha risposto a tutte le domande e ha sostenuto di essere innocente. Nelle settimane scorse, durante una perquisizione nella sua abitazione di Francavilla al Mare, gli inquirenti hanno trovato una scarpa con tracce presumibilmente di sangue. Domani prenderanno il via le operazioni peritali per fare luce su quelle tracce. Gli accertamenti saranno effettuati dal consulente tecnico della Procura alla presenza del perito di parte.